Allora, come detto, praticamente usiamo questa ora un quarto scarsa che ci rimane per provare a introdurre le root nella nostra applicazione. Abbiamo ragionato prima dell'intervallo su quali root ha senso introdurre. Di fatto le root sono degli stati della nostra applicazione, questo spero sia chiaro a tutti oramai. Di fatti, prima di averle, avevamo questi stati di servizio. Il banalissimo Stato mostra, nasconde il form e fondamentalmente è uno Stato, esattamente come abbiamo sempre detto. Questo adesso non esisterà più se noi separiamo la visualizzazione del form dalla visualizzazione della lista degli esami. Perché lo Stato dove viene mantenuto? Lo Stato è l'URL, è ciò che scriviamo lassù nella barra dell'URL. Non lo scriviamo direttamente, lo metteremo a disposizione, ma il concetto è questo. Ok, quindi cominciamo a ragionare in questi termini. Ristrutturiamo l'applicazione e introduciamo un router, senza questa non facciamo nulla, e cominciamo a introdurre le root che ci servono. Ovviamente dobbiamo aver fatto una pensata prima, e la pensata l'abbiamo fatto prima dell'intervallo. Abbiamo detto root slash e la lista degli esami, slash add e il form vuoto. Ok? Poi possiamo andare avanti, slash edit e pensare all'edit. Però almeno queste due dobbiamo cominciare a introdurre. Tra l'altro all'esame, quindi non per il BigGlob non lo so, non mi sembra, però, all'esame vi verrà richiesto, oltre di fare la consegna ovviamente del codice che funziona, anche di scrivere un file readme, come quello che ho scritto io qui, ovviamente un po' più esteso. Dov'è che l'ho messo qua? Ok? Ci sarà già una bozza, no? Una delle cose che vi viene richiesta è di scrivere la lista di tutte le root che ha la vostra applicazione. Perché? Perché così, se ci perdiamo, se non capiamo cosa avete fatto e così via, andiamo lì a capire che struttura ha la vostra applicazione. Anzi, devo dirvi la verità, prima di aprire l'applicazione, io, ma anche i miei colteghi penso, andiamo ad aggerci il readme e la prima cosa che facciamo è leggere le root. Perché ci danno un'idea di come è strutturata l'applicazione. Ok? Cioè, se c'è un'unica root, vabbè, si può fare, però c'è qualcosa che non guarda. Però, per dire, c'era da gestire una lista, c'era da aggiungere delle cose, eccetera, ci aspettiamo di vedere un barra list, barra add, barra qualcosa di questo tipo, no? Quindi, non tante, saranno 5 o 6, forse meno, dipende da come uno vuole strutturare le cose, no? Però, diciamo, queste root, che fondamentalmente sono le viste dell'applicazione, ci aspettiamo di trovarle, no? Quindi, la prima cosa è avere le idee chiare, perché se cominciamo a scrivere il codice senza avere l'idea di dove stiamo andando, ovviamente non andiamo distante, no? Ma questo vale in generale. Quindi, noi abbiamo deciso di fare queste root, no? E quindi, allora, prima cosa, importiamo il router e andiamo a fare tutto quanto. Dove lo importiamo? Abbiamo detto, deve racchiudere tutta l'applicazione, quindi c'è un unico posto dove possiamo farlo, in app, ok? Mi raccomando, non cambiamo la funzione app, cambiamo solo quello che c'è scritto dentro. Perché? Perché poi facciamo export di app e app viene agganciato da tutto il resto che ci ha già preparato, il create react app. Quindi, se noi cambiamo app, finisce che dobbiamo andare a cambiare un altro pezzo fuori, cosa che, diciamo, è inutile fare, no? Perché se possiamo scrivere qui dentro, facciamo qualcosa fuori. Allora, quindi, noi mettiamo il router, ok? Importiamolo, va? Così non ci dà troppi errori mentre facciamo le cose. Allora, import. Diciamo pure, router, in realtà era il browser router, giusto? Browser router, ok? From react router. Adesso non mi ricordo se l'ho già installato o no, spero di no, così vediamo come si installa. No, in realtà è React Router DOM, scusate. DOM, ok, vediamo di salvare. Ok, non c'è. Vabbè, vabbè, adesso ho scritto anche questa cosa. Vediamo se c'è. Ah, no, c'è. Vabbè, l'avevo già installato, se no, quindi il pack json, c'era già React Router DOM, ok? Se no, lo facciamo npm install React Router DOM, possiamo anche farlo, tanto, se è già installato non capita niente, al massimo si aggiunga. React Router DOM. In realtà, in realtà avevo l'esempio completo, l'ho riportato indietro, quindi mi è rimasto nel pack json già il React Router DOM, ok? Adesso spero che non, che la rete vada, va bene. Ok, quindi c'è, lo possiamo usare. Lascio attivo l'applicazione, perché ogni tanto mi aiuta, no, mentre lavoro, compila, quindi se ci sono dei problemi, magari mi risparmia un po' di tempo. Quindi ho preso browser router, ok? Poi prenderò le routes con la S e le routes senza la S, ok? Ecco, come avete visto prima, io avevo scritto router, che in realtà non esiste, ma perché? Perché molti scrivono così, no? Così intanto ripassiamo anche la lettura che dovete fare per oggi, no? Quelle quattro cose sui moduli. Di fatto gli import, come si fanno gli import, gli export, il requiring, il no.js, eccetera, no? Sono quelle quattro cose. Quando importiamo possiamo anche rinominare l'oggetto che importiamo, ok? Quindi lo facciamo, così il router esiste, è solo una convenzione, no? Se noi volessimo cambiare il tipo di route, ci basta cambiare qui così importiamo. Se no scrivete browser router e va benissimo, ok? Allora, andiamo a scrivere le routes. Quindi, prima cosa, routes con la S, ok? Poi, eh, dai, che è un po' pistino, eh, il... Quindi, sentite, facciamo un attimo così, perché sta cosa mi dà proprio fastidio, che sottolinei tutto che non abbiamo ancora neanche iniziato, eh? Va bene, allora, quindi, le routes, le nostre routes, ne mettiamo due, cominciamo da due, eh? Route, ok? In realtà, la chiudiamo, quindi io la chiudo, perché ci metto il path, e ci metto slash, e poi cos'è? Element, e ci metto... Ecco, ci metto cosa? Cosa ci metto in element? Ho deciso io, no? La slash cos'è? La lista degli esami, no? Abbiamo il componente, era qui sotto, exam scores, ok? Quindi, copia, incolla, ok? Lasciatemelo chiudere così, è un po' più compatto, eh? Lo chiudiamo così, così è un po' più compatto, ok? Va bene, e questa è una route, abbiamo fatto una route, eh? Niente di sconvolgente, come avete visto, abbiamo scritto poi quattro righe. Route, mettiamo almeno una seconda route. Abbiamo detto, facciamo la add, è la cosa più semplice, la add, no? Add, element, uguale, ok? Ok, chiudiamo la route, ecco, qui cosa ci mettiamo? Abbiamo detto, cosa si visualizza sull'add? Il form, no? Quindi, exam form, ok? Ora lo lasciamo così, ovviamente questo ci crea una ristrutturazione nella nostra applicazione, perché? Perché exam form adesso era creato in exam scores, era qui sotto, no? Quindi c'era tutta questa roba per far vedere il form, ok? Che io in questo momento, guardate, facciamo così, commento, eh? Perché mi crea solo pasticcio, ok? Adesso ovviamente compilerà, ma non funzionerà. Perché devo ancora sistemare un bel po' di cose. Quindi, allora, oh, my exams e tutta questa roba qui, questo è un container, c'è un titolo, gli esami, queste erano due righe di, diciamo, del layout di bootstrap. Allora, adesso le butto via oppure le sposto da un'altra parte, no? Perché? Perché se no devo prenderle e, cioè, dovrei metterle qui dentro, ma se le scrivo qui dentro, scrivo del codice lungo così e non ci capisco più niente. Allora, come ho detto, preferisco prenderle e portarlo dentro il componente, no? Quindi, allora, questo container, eccetera, lo prendo e lo porto dentro l'exam scores. Quindi c'era un exam scores, ecco, guarda, tra l'altro non faceva proprio niente, no? Nel senso che passava solo una, come si dice, una props. Quindi, l'exam table, exams, questo è props, exams, props, exams, exam table. Ok? Quindi ho spostato via il layout. Ok. Ho spostato dentro l'exam scores. E in app ho l'exam scores. Ok? Quindi adesso mi sono anche ripulito un po' l'app. E va bene. Quindi salvo da una parte, salvo anche dall'altra. Ovviamente ci sono mille cose che non stanno ancora andando perché sto rivoluzionando la struttura e per cui, per forza, che succede questo, no? Ok. Add exam form. Cerchiamo di aggiustare un po' di cose. Ma exam scores, va bene. Container, raw, call. Devo andare a prendermele. Ok. Tanto si può tirar via. Exams scores. Quindi diciamo pure così. Va bene. Piano piano. Exam form is not defining up. Ovviamente devo andare a importare il mio exam form. Form from punto barra exam form. Adesso guardiamo un attimo come l'abbiamo esportato. Il not exported perché in realtà io, per farvi vedere, in exam form alla fine, visto che abbiamo la lettura ma ne approfittiamo, ho fatto un export default anziché fare come in exam scores che ho fatto un export di un oggetto con una certa cosa dentro. Quindi se fate l'export default, quando la importate dovete non importare un pezzo di un oggetto ma importare l'unica cosa che c'è che è il default e gli ho dato un nome che è exam form. Ok. Così ne approfittiamo per dare un'occhiata ai moduli. Mano a mano che andiamo avanti. Va bene. Exams scores. E va bene. Exams scores non ci serve più il form. Ma tiriamolo via perché sennò siamo sempre pieni di warning che ci portano a ragionare di cose fuori strada. Quindi show form, exam to edit, anche questi diciamo non ci servono più. Lo show form va via del tutto. Ok. Lo show form è lo stato che abbiamo sostituito con l'url. Perché adesso abbiamo slash slash add. Quindi quello stato non esiste più e non ci serve più. Ok. L'exam to edit. L'exam to edit è di nuovo uno stato che prima o poi dobbiamo mettere da qualche parte perché dobbiamo, se vogliamo fare l'edit, andare a capire come dire all'url dell'edit qual è l'esame da editare. Però in questo momento stiamo ancora ragionando sui path, sulle route, mettendo a posto le route. Chiaramente poi ci sono una serie di set, set qui, set là, che non esistono più. Va bene. Perché? Perché appunto gestiamo le cose diversamente. Quindi nel momento in cui tolgo il 61, dove sta la 61, ecco, edit exam. Facciamo l'edit exam in questo momento e facciamo così. Cercavo di non distruggere proprio tutto il codice, se no, ok. Va bene, quindi adesso fondamentalmente, ok, compilato con dei warning, quindi di per sé possiamo provarlo, no? Quindi gira. Ok? Andiamo a vedere cosa è successo. Localhost 3000 e c'è la route di slash, ok? Non mettere slash, è implicito, va bene, però è quella lì. Ok, c'è sparito il bottone, va bene, questo è normale, no? Perché? Perché l'ho tolto, l'ho commentato, perché era il bottone che veniva visualizzato, no, sulla base dello stato. Showform, no. E allora come faccio arrivare all'AD? Ve lo faccio vedere, ovviamente questo non è il metodo che deve usare l'utente, però solo per provare, facciamo. Noi abbiamo la route add, invio, ok? E viene fuori il form. Quindi, ci siamo in linea di principio. Fa schifo, ok, tutto quello che volete, però ci siamo. Nel senso, le due route ci sono. Io ho messo barra add, il server web di creator e act up, mi ha servito la stessa applicazione. La stessa identica applicazione. Cosa è successo? Che il router, il browser router, ha visto la route e non mi ha caricato la lista degli esami, ma mi ha caricato il form. Sulla base di quello che ho scritto, ok? Quindi, qui ho scritto carica exam form, ok? Quindi uno non viene caricato e l'altro viene caricato. Perché ho scritto add? Se io scrivevo add, add pippo, eh? Niente. Perché? Perché non c'è una route che aggancia tutto quello che posso mettere, no? Quell'asterisco lo metteremo poi alla fine se abbiamo tempo. Però adesso non mi serve. Va bene. Allora, come faccio a farlo diventare un po' più decente? Lo faccio... Vado in maniera incrementale, eh? Lo faccio facendo esattamente come ho fatto su ExamsCourse. Come faccio a farlo diventare decente? ExamsCourse ci metto il container intorno. E quindi lo metto anche sul form, lo metto direttamente dentro il form. Così faccio prima. Container... Ok. Row call... Devo chiudere qui. Quindi call row e container. Ok? Adesso spero che ci siano. Non sono importati. Uffi... Ok. Me li importo anche di qua. Poi se riusciamo ad arrivare in fondo ci facciamo anche il layout. Però adesso se perdiamo tempo sul layout diciamo... Magari non riusciamo a vedere le cose che invece sono veramente importanti. Ok. Ho fatto il form. L'ho formato un po' decentemente solo. Quindi format document. Quindi... Ah, non è My Exam, ma è My Form. Cosa ho messo nel form? Diciamo form, va? Form. Ok? Allora, riproviamo. E già... Vabbè, si è già aggiornato. Ok. Add. C'è semplicemente il container di Bootstrap. Se io tolgo, no? Viene fuori la lista degli esami. Ok? Benissimo. A questo punto cerchiamo di avere almeno la possibilità di passare dalla lista degli esami al form, no? Cioè, senza andare a paccioccare sull'urla. Il bottone. Mi manca il bottone. Come faccio a mettere il bottone? Vi faccio vedere due modi. Allora, siamo nell'exam scores, quindi alla fine della tabella, là dove abbiamo commentato tutto, cosa mettiamo? Mettiamo un link. Prima mettiamo un link, poi lo facciamo diventare un bottone. Quindi io metto link, ok? Tu, vi ricordate? Eh? Tu. Add. Questo è l'url, eh? Che ho deciso io, che è quello del form. E poi? E poi, boh, ci scrivo quello che scriverei in un ahref. C'è un nome e ci scrivo add. Ok? Proviamo solo se link esiste, link non esisterà, quindi sarà da importare. Quindi import link, chissà se è furbo, from, from, react, router, dom. Non troppo. React, router, dom. Ok? Ok. Cosa è successo? C'è un link add. Ok? Un link, non è un bottone, ma non fa niente, nel senso che alla fine per noi era un bottone con un on click, quindi non è che... Clicchiamo. Tra l'altro, ecco, in basso a sinistra, qui, non posso muovere il mouse, ma quando ci passo sopra, vedete che c'è scritto anche l'url. Non si può ingrandire, però c'è scritto bar add. Clicco e mi sposto sul form. Ok? Clicco su cancel, non succede niente. Perché? Perché anche il cancel andrebbe trasformato in questa maniera, anche il save andrebbe aggiustato in questa maniera. No? Allora, vi piacciono di più i link o i bottoni? I bottoni. Vero? Ok, allora, lo facciamo non solo perché vi piacciono di più, però... Ve lo lascio commentato. Facciamo sparire questa roba di... Beh no, teniamola lì, va, non si sa mai se dopo dobbiamo andarla a rileggere. Quindi io ve lo lascio commentato. E facciamo un bottone, come prima, no? C'era un button, niente di particolare. Quindi, button, add, no? Era qui sotto, il button... Dove era? Add, questo qui, no? Mi faceva il save show form true. E a questo punto, ovviamente, se non ci metto un onclick, non fa assolutamente niente da solo. Cosa ci scrivo nell'onclick? Cosa ci scrivo nell'onclick? Devo fare l'equivalente del link. Eh? Navigate, vero? Hanno letto? Non si può gridare con la mascherina. Ehm... Quindi, sono nell'handler. Non ce l'ho il componente qui, no? Non posso scrivere link. Link è un affare che va cliccato. Però la navigate. La navigate, però, mi serve... Mi serve... Mi serve il... Come si chiama il... Look? Eh? Cost navigate. Questo, fare tranquillamente, copia e incolla. Tanto si scriverà sempre così. Use navigate. La use navigate non... Ah, vabbè. Ah, ogni tanto è bravo. Me l'ha scritto da sola. Ok. Ehm... E allora, ci mettiamo... Mi raccomando, è freccia. Tonde freccia. È una callback. Use navigate. Add. Ok? Bon. Finito. Salvo. Ah, sì. Link is the final user. Cosa scombina? Can... No, no. Can not be cold. Ho sbagliato qualcosa. Oh. Eh, qui mi sa che c'è qualche graffa che non quadra più. Qualche... Qualche cosa che non quadra più. Del... Eh? Ah, navigate. Ha ragione. Giusto. Esatto. Bravo. Navigate. Use navigate. E look va messo sopra. Navigate è la funzione. Ehm... Ecco. Ecco. Tra l'altro questo... Ne approfittiamo per dire una cosa. Gli hook non possiamo chiamarli dove ci pare. Gli hook li chiamiamo tutti all'inizio del componente. Il perché lo vedremo, mi sa, tra 3 o 4 le lezioni. E per come React gestisce gli hook, no? Perché non è bene le funzioni che sono funzioni pure. In realtà React sotto si fa il suo trucchetto. Una specie di array in cui si mantiene gli hook. E se li chiamiamo dove capita non funziona più niente, no? Ok? Va bene. Eh... Navigate hub. Grazie. Allora. Link va bene. The final ever used. Però, allora, ricarichiamo. E c'è comparsa il bottone di prima. Adesso non ci viene più il link, perché non è un link. Però sappiamo che abbiamo un non-click che ci fa navigate. Clicchiamo e cambia l'urla. Ok? Poi mi sa che mi è partito un click di troppo. Ok. Stessa cosa si può fare sul form, no? Facciamo il cancel che è facile. Il cancel sul form è stesso meccanismo. Batto non-click, non ci sarà più props. Cancella, ma dobbiamo mettere anche qui il... Il navigate. Navigate. Use navigate. Ok. Chissà se... Sì, me l'ha messo. E lo mettiamo. E dove navighiamo? Andiamo qui. Quindi, freccia. Navigate. A che urla andiamo? Slash. Slash. Abbiamo due pagine. Non è che c'è tanto da fare. Quindi, dall'una all'altra. Allora. Quindi, dovrebbe già funzionare. Cancel. Add. Cancel. Il save ci richiede un attimo di più, perché dobbiamo riorganizzare il sistema per fare in modo di modificare lo stato correttamente. Adesso lo facciamo. Ok? Va bene. Quindi, di cosa ci occupiamo adesso? Direi... Sì, che... Direi che è ora dello state. Ok. Benissimo. Allora, in form, noi abbiamo bisogno di props ad exam. Giusto? Che è quella che viene fatta nella handle submit. Questo funziona, no? Click. Scatena un submit, and un submit, add exam, se è tutto a posto. L'add exam è una props. Chi ce la passa? Chi ce la passa? Exam form. Chi ce lo crea? Exam form. Adesso si è spostato. È andato a finire qui. Ok? Quindi siamo in app. Siamo in app. E lo stato, la lista degli esami, dove sta? Sta in exam scores. O meglio, dentro exam scores c'è exam table. No? Quindi in exam scores non facevo niente, c'era exam table col suo stato degli esami. Questo non va più bene. Ok? Lo stato mi serve perché... Perché devo farci add exam. No? L'unico posto dove può andare a finire lo stato è app. Ma l'abbiamo già detto, no? Quando abbiamo parlato dello stato più volte, a un certo punto finirà che il vostro stato va su nell'albero dei componenti e se c'è bisogno andrà fino ad app. E va bene. Ok? Non abbiamo una maniera migliore di risolvere questo problema. Ci sarebbe, ma non abbiamo più corso a 6 crediti. Nel senso che ci servono un'altra libreria, tante cose e non lo facciamo. Per le nostre applicazioni per ora ci basta. Quindi, spostiamo lo stato. Occhio che è un'operazione ovviamente un po' delicata, no? Quindi lo stato va via. Da qui non sparisce, ma va in app. App comincerà a diventare una funzione un po' più complicata. Ma non è un problema. Use state non è più props exam, ma sarà il fake exams. Ok? Quindi inizializziamo lo stato del nostro array fake exams e poi nelle prossime puntate arriverà dal server. Però per ora abbiamo questo. Ok, quindi qui, il zaccorso non prende più fake exams. Se gli diamo fake exams, quella lista non si modifica più. Quella lista deve prendere exams, che adesso è il nuovo stato. Ok, exam form per ora non ha bisogno degli esami. Exam form è il form, no? Non deve far vedere gli esami. Però avrà bisogno della ad form. No, ad exam, scusate. Ad exam, ok? E qui qualcosa dovremmo farlo. Come facciamo a passare la ad? La ad exam ce l'avevamo. La ad exam è dov'è? È nella exam table. Abbiamo fatto tutte le funzioni qui. Adesso ciò che non usiamo più, tra l'altro vedete sono già in grigetto, no? Ce l'ho un po' scolorite. Queste operano sullo stato. Quindi fanno una sette exam e quindi devono andare insieme allo stato. Quindi taglia, in call line up, ok? Questa roba facciamola andar via, va più tanto, se no ci crea solo poi confusione. Quindi i vari set degli stati di servizio li ho tirati via, ok? Cosa ho combinato? Ah, mi è scappato, mi è scappato qualcosa, mi sa, eh? No. Ah, gli ho messo, sì, devo ancora impostare, devo ancora impostare l'add exam. Quindi add exam. Questa è qui, è a disposizione adesso, l'ho portata, è a disposizione. L'update e dopo ci servirà. UseState is not defined, vabbè, queste cose potrebbero anche risolversene. Interact non c'è, vabbè. Import useState from React. Va bene, link per ora è, vediamo un po', ok? Quindi, intanto si vede ancora qualcosa. Add, vabbè, codice, dai, uno, due, tre. E' il mio corso. Save. Ah, save. Save. L'ho schiacciato. Vi faccio vedere una cosa, va, visto che siamo qui. Save, io in app ho portato il mio stato, no? Quindi me lo trovo, eh, col debugger. Eccolo qui. Cosa ho dimenticato? Devo dire, al bottone di andare sulla pagina, ok? Sì, c'è una domanda. Bene. Creare l'oggetto in form, l'aggetto esame in form, come facciamo già. E poi, passarlo indietro a, a exams course, e quindi senza spostare lo stato. E, come, con? Con lo state, ma, eh, eh, però, eh, lo state ci consente di passarla a un'altra pagina, no? Però, eh, sì, ci arriva, però il problema, il problema è che scrive tanto codice in più, quindi di per sé ci sta quello che sta dicendo. Cioè, non ci sta nel senso che, macchinosa, però si può realizzare, però scrive tanto codice in più quando, spostando lo stato, ha risolto il suo problema, no? Cioè, il vostro collega dice, lo dico anche per chi ci ascolta registrato. Perché ho spostato lo stato? Quando avrei potuto, dalla add, passare uno stato con quel meccanismo dello state uguale del link, oppure della navigate con il secondo parometro dello stato, e ritrovarmelo nella root slash, eh, agganciandolo con la use location state, e portarmelo dentro in exams course, quindi lasciando lo stato qui. Eh, si può fare, però, devo dire, è di una macchinosità bestiale. Nel senso che adesso c'è solo l'add, poi ci sarà la edit, ok? E allora, lo suo stato che spedisce a questa pagina dovrà dire cosa sta facendo. Quindi avrà nell'oggetto da metterci anche l'azione che sta facendo, un add o una edit. Se fa una terza cosa, avrà ancora un'altra cosa, e così via, no? Quindi, ehm, di fatto sta, sta implementando tramite lo stato un meccanismo di passaggio, di un messaggio che dice che cosa fare, ok? Che si può fare? Sei curioso, vuol provare a vedere se funziona? Secondo me funziona, però, appunto, è molto macchinoso. E, come dire, non voglio dire che è sbagliato, però è sicuramente un pattern non previsto da React, perché poi, è vero che gli esami li visualizza solo sotto l'exam table, no? Però, siccome poi degli esami, a un certo punto, tra l'altro avremmo bisogno anche nel form, finisce che li portiamo lo stesso su, e quindi ha lavorato un sacco per fare una cosa dove noi abbiamo raccomandato, noi, diciamo, React e tutti, raccomandano di fare il cosiddetto state lifting quando c'è bisogno. Perché? Perché la distribuzione è immediata nel momento in cui ha fatto, ha spostato lo stato nel componente di livello più elevato, o uno di quelli, diciamo, comuni. Mentre invece, passare a destra e a sinistra l'informazione è macchinoso, non c'è sempre il rischio di sbagliarsi. E poi, se distribuiamo l'informazione con la modalità di React, diciamo, React si prende carico di aggiornarci l'interfaccia quando le cose cambiano, che sia lo stato che siano le props. Se cominciamo a fare questi giochini, sta in carico a noi fare attenzione che i componenti poi si comportino come vogliono, come vogliamo, anzi, scusate. Quindi, ci complichiamo un sacco la vita a fare quel lavoro lì. Non è impossibile, però non è il massimo, ok? L'idea, però, non è malvagia, nel senso che nel momento in cui ha uno stato particolarmente complicato, poi alla fine si usa un meccanismo simile, no? Quando lei ha una cosa tipo Redux e così via. Adesso questo lo dico più che altro perché ha fatto la domanda. ha uno stato, ha dei meccanismi che le dicono come evolve questo stato, e di fatto quello che passa in giro è poi, diciamo, l'azione da fare, no? Quindi, l'idea c'è. Lo stato può addirittura andare fuori dai componenti. Però, come dire, ci porta un po' troppo fuori strada in questo momento, ok? Quindi, proseguo con questo modo in cui ho portato sullo stato in app, così ho a disposizione le funzioni che direttamente fanno le operazioni e le passo come props. Quindi in app ho l'ad exam e l'ho passata all'exam form. Devo però ancora fare l'operazione di navigazione, questo in ogni caso, cioè in exam form, io avevo il bottone submit, che non ha l'handler, perché l'handler l'ho messo sul form, come abbiamo visto all'inizio lezione. Quindi arriviamo alla handle submit, che fa tutte le operazioni. Mi ha fatto l'add exam, l'abbiamo visto nel debugger, ok? Nello stato di app, cosa mi mancava? Mi mancava solo la navigate slash, per tornare alla lista. Tutto qui, ok? Quindi era solo questo che mi mancava. Quindi adesso chiudo. E tra l'altro, ecco, ho fatto cancel e c'è nello stato. Quindi riprovo, codice così, altro esame, save. Questa volta naviga correttamente e nello stato c'è, perché la vedo, ok? Ok, quindi, quindi di fatto, vediamo un po' cosa ci manca qui. Vabbè, link define never used, ma vabbè, lo tiriamo via, giusto perché mi dà fastidio vedere tutti questi warning. Ok, di fatto, dovremmo avere, ah, la delete exam, possiamo provarla, ma questa, ahia, no, ho fatto un pacciocco, mi sa che ho cancellato qualcosa di troppo. Fail to camp, set exam is not defined. Dove sta? Sta set exam, exam scores. 31. Ah, no, ecco. Ecco. Quindi, ho ancora la delete exam. La delete exam deve anch'essa andare a finire dove c'è lo stato, no? Perché se no, non ha a disposizione set exam. O glielo passo, o gliela passo, o lo metto dove c'è lo stato. Io propendo per la soluzione, mettiamola dove c'è lo stato, perché è la cosa più semplice. Ok? Quindi, delete exam code, solo che la delete exam mi serve, mi serve, mi serve in exam scores, ok? Quindi, in exam scores, infatti, passavo, delete exam. Exam. Quindi, l'ho tolta, la passo come props. Exam. Quindi, salvo, la passo come props allo score, quindi, qui facciamo un po' di ordine, delete exam, questa diventa props, ok? Delete exam. Exams is not defined, 42, anche la exams è una props, questo. Poi, prima, era uno stato, per cui non era props, punto, no? Era proprio una variabile interna alla funzione. Adesso è una props. Forse non gliel'ho passato, adesso vado a vedere. Ok? Andiamo a vedere se glielo ho dati. No, mi sembra di sì. L'exam se glielo avevo dati, ok? Quindi, dovrebbe andare. Riproviamo. Quindi, vediamo se cancella. No, non cancella. Perché non cancella? Delete exam. Delete exam. L'abbiamo messa. Code, code. Probabilmente c'è qualcosa che non va nel codice. Delete exam. Props. Props. Delete exam. Delete exam. Props. No, dovrebbe andare, perché è un motivo. Per quale motivo non cancella? Qualcuno ha un'idea? Ci sono persi qualcosa? Allora, proviamo a ricaricare, magari. No. Oh, allora. Quindi, exam table, rice... Eccola qua. Non l'ho passata qua. Quindi, se noi andiamo, andiamo a vedere. Ma, visto che ho trovato un'errore, ve lo faccio vedere, così non perdiamo tutto tempo qua. Se siete nei pasticci, eh? E non sapete cosa fare, andate a cercarvi il vostro codice, eh? Vi mettete un breakpoint. Ok? Adesso, mettiamo il breakpoint. Vabbè, mettiamolo lì. T-Body, qui non si può. Ok? Quindi, carichiamo l'applicazione. Va bene. La prima volta ce lo visualizza, ma andiamo avanti. Poi schiaccio. Ok? Oh, props. Delete exam is not a function. Forse bastava la console, va bene. Home click. Exams course 80. Ok? Exams course 80. Ok. Delete exam is not a function. Di solito vuol dire, non è una proprietà dell'oggetto. Cioè, undefined. Ho fatto acceso qualcosa che non esiste. Quindi, undefined. Quindi, devo risalire nella catena a vedere se è tutto a posto. Avevo messo il debug. Però, sì, si è piantato sotto. Vabbè. Volevo vederlo prima, ma... Pazienza. Bisogna debagare un attimino. Ehm... Niente. E non l'ho passato a un certo punto della catena. Ehm. Quindi, andiamo a prenderlo qui. Quindi, ehm... Delete exam. Oh. Delete exam. Ah, mi si è... Exam uguale... Props delete exam. Ok? Quindi, salvo. Ha salvato. Via. No. È ancora lì che compila. Ehm... Allora. Devo aspettare. Se non si è inchiodato. Ehm... Mi sa che sono un attimo incriccato. Allora. Facciamo così. Stoppiamo il server e facciamolo ripartire. Se vi succede qualcosa di questo tipo, che per un po' non vi carica l'applicazione, eccetera, magari, appunto, c'è un problema esterno a voi, ogni tanto riavviate. Eh? Ok. Adesso funziona. Quindi c'eravamo scordati di... Mi ero scordato di passare la delete exam tra un componente e l'altro e quindi mi ha preso un undefined a un certo punto e ovviamente poi non si può chiamare. Ok? Ok? Va bene. Abbiamo messo a posto tutto quanto tranne l'edit, no? Se non sbaglio. Mi sembra di sì. Ok? Quindi abbiamo già un buon risultato, no? Cioè, di fatto abbiamo trasformato la nostra applicazione da un'applicazione che aveva gli stati di servizio per fare la visualizzazione del form, eccetera, è un'applicazione a due pagine, in cui in una c'è la lista e nell'altra c'è il form. Ok? Adesso abbiamo solo l'add e procediamo però a provare a fare l'edit, perché così vediamo la route parametriche e queste cose qua. Allora, vi faccio il commit magari intanto. Quindi, implementato add, implementato, pagine, pagine e add. Add, delete. Ma la delete in realtà era solo da sistemare, non ha una sua pagina, perché la delete rimane nella stessa pagina, quindi non c'è da fare navigate da nessun'altra parte. Ok? Sulla delete. Infatti, non è che abbiamo fatto chissà quale ragionamento. Adesso, la edit, no? Perché adesso abbiamo solo un bottone che ci crea un form vuoto, no? Oppure abbiamo un bottone, sì, ma che non fa nulla perché non gli abbiamo più passato la funzione edit. Forse nella console c'è addirittura anche lì un errore, no? Ci sarà... No, non c'è, ma... Non c'è, si vede che non... Fa niente. Comunque, noi ragioniamo su quello che dobbiamo fare. Io qui vi faccio vedere un esempio con la edit, no? Quindi, noi abbiamo... Creiamo una root per fare la edit. Ricicleremo il form. Ovviamente, non è che scriviamo due componenti form uguali identici, no? Cerchiamo di riciclarlo, quindi cambiando un po' quello che serve, l'inizializzazione e tutto. Però dobbiamo prima di tutto ragionare in termini delle root, quindi degli url. Come faccio a fare un edit? Beh, è una nuova vista per me, sì, va bene, barra edit, ok. Mi invento un nuovo nome di url. E questo si può fare. Però mi resta il problema che io prima avevo uno stato, era quella exam to edit, no? Quindi l'esame da editare, che mettevo da qualche parte in attesa di creare il form e inizializzarlo. Adesso dove metto questa informazione? Ho due opzioni. Uno è quello di passarlo come stato nel movimento, nella navigazione, da questa pagina, che quindi è lo slash, quando premo il bottone, alla pagina barra edit. Questa è un'opzione. Ce l'abbiamo agli elementi, perché nelle slide l'abbiamo visti, come ci ricordava prima il vostro collega. Se volessimo farlo, così, eh, virgola, c'è lo stato, eh, exam to edit, ce l'abbiamo. E poi lo agganciamo, use location, location state, all'altra parte ce l'abbiamo. E inizializziamo il nostro form, ok? Mettiamo solo un po' di if, se impostato lo inizializziamo, se no no, però, insomma, alla fine il componente form è a posto. Ti dicevo però c'è un piccolo, un piccolo, beh, un problema. Nel senso che, eh, se ho degli oggetti complessi, questo meccanismo è un po' macchinoso, perché devo trasformarli io in string, recuperarli. Noi qui abbiamo la stadata, il day.js, che appunto ci crea questo piccolo problema. In più, facendo così, io ho solo una root edit e basta, ok? Cosa che, per questo caso, può anche andare, va anche bene. Però non mi consente di farvi vedere un url parametrico, perché c'è solo barra edit e il passaggio dell'informazione dello Stato è nascosto. Direi giustamente nascosto, perché non è che voglio passare 50 cose sull'url, l'url ha una dimensione limitata e così via, ok? Poi magari non è bello esporle, mille motivi. Quindi, prova a seguire un approccio diverso, che può venire comodo anche a voi. Quindi, provare l'url parametrico. Cosa passo per editare il form? Dicendo, guarda, inizializzalo con un certo esame, perché così lo puoi editare. Se c'è un identificativo, ovviamente passo con l'identificativo. Qual è l'identificativo? È il codice dell'esame. Quindi, c'è il codice dell'esame, che qui non vediamo, ma nel codice, scusate, gioco di parole, ma nell'applicazione c'è, no? Perché abbiamo code, due punti, qualcosa, e lo chiediamo nel form. Ok? Quindi ce l'abbiamo sempre, e lo possiamo passare. Così proviamo a scrivere la root parametrica, barra edit, barra codice del corso. Io lo faccio per inizializzare un form, ma voi potete farlo per qualsiasi altro motivo, per visualizzare le informazioni di dettaglio di un elemento, prodotto, barra id, non so, prodotti id, 1500, quello che volete. E così via. Cioè, tutte le volte che avete bisogno di passare degli identificativi, il meccanismo della root parametrica è l'ideale. Ok? Bene. Allora, andiamo a farlo. In app, creiamo la root, quindi adesso abbiamo già tutto in piedi, no? Root, diciamo, lasciatemi scherzare, sono gratis, eh? Root path, dobbiamo solo scriverla in maniera parametrica. E come si fa? Barra? Allora, barra edit, ci serve una parte iniziale, no? Perché, altrimenti poi la confondiamo con tutte le altre, no? Quindi, mettiamo ad esempio una parte iniziale che, come dire, ci dice quello che stiamo facendo, la vista sulla quale siamo. E poi, e poi diamo un identificativo. Ok? Come facciamo a dare un identificativo? Ci sogniamo una variabile, il nome di una variabile. Diciamo, examid, però se è parametrica, dobbiamo premettere quei due punti che abbiamo visto nelle slide. Examid. Ah. Qui, questo tablet, cioè questo portatile, ma ogni tanto prende un click così, dal nulla. Examid, ok? Me lo sono sognato io il nome, eh? Potevo chiamarlo Pippo, potevo chiamarlo Code, come voglio, ok? Perché questo non compare nella root. Questo è una variabile, lo agganceremo come proprietà di un oggetto, ok? Quindi l'ho deciso io. Come fa a capire che è parametrico? Perché ho messo i due punti, ok? Ok. Va bene, questa è la nuova root. Cosa visualizziamo? Dobbiamo sempre mettere element, no? Se non mettiamo un element, c'è niente da vedere. Element c'è sempre il form, perché è il form, no? Exam form, ok? Diciamo che noi facciamo adesso... Niente, basta. Ok? Chiudiamo così e vediamo cosa succede. Ok? Ve lo costruisco passo passo e vi potrei dare la soluzione. Facciamo push, arrivederci. Però così ragionate poi per il laboratorio. Quindi, io creo l'exam form. L'exam form, ovviamente adesso non funziona, perché non gli ho dato exam to edit, insomma, queste cose. Ma adesso lo ristrutturo. In questo momento exam to edit non è settato, è un undefined, quindi l'inizializzazione è quella che vedete in fondo, ma è come con l'add, no? Prima non l'ho detto, ma alla fine è così. Cosa facciamo? Andiamo a recuperare l'url parametrico. Quindi... Dov'è? Ok. Come si recupera l'informazione dell'url parametrico? Lo faccio all'inizio, ma solo per... Beh, no, non solo per comodità, perché dopo mi serve per inizializzare gli altri. Cost, abbiamo detto, era use params, no? Cost, params, use params. Ok? Mi piace così. Use params, dov'è? Use params. Ok? Bene. Il nostro... Cost exam ID, params exam ID. Ok? Adesso non dovrebbe darci errori, solo warning. Ok. Me lo visualizzo. Dov'è che è? Form... ID, due punte. Params. No, l'ho chiamato exam ID. Ok? Ah, mettiamo code. Voglio solo fare una prova, eh. Non lo lascio così. Faccio solo una prova e vedere se il meccanismo funziona. Ok? Quindi, non ho ancora agganciato il bottone edit. Sono come prima. L'URL, se lo voglio, lo scrivo. Edit. Vai, c'è un URL vecchio. Edit, barra, 0, 1. Beh, ho agganciato questa informazione. Se io cambio l'URL, cambia questo. Ok? Quindi, il componente con la useparams è in grado di agganciare la parte parametrica dell'URL. Perché è in grado di farlo? Perché sta dentro una root che ha un path parametrico. E questa informazione viene passata ai componenti dell'element. Ok? Quindi, ottimo. Ho verificato che il meccanismo funziona. Adesso posso andare a costruire tutto quello che mi serve. Cosa faccio? Mi farò passare il codice del corso quando mi viene detto di navigare su barra edit, barra. No? Quindi, devo fare in modo che quei bottoni di edit mi aggiungano il codice del corso. E poi devo fare in modo che il form mi carichi l'informazione relativa a quel codice corso. Ok? Cosa facciamo per prima? Facciamo il form. Così lo possiamo testare anche solo con l'URL. E poi passiamo. Ok, quindi. Nel form. Allora, io vi ho fatto vedere. Tanto resta registrato appunto come tirar fuori l'examid dei params. ma sapete che i programmatori sono un po' fissati, no? Quindi, noi scriviamo così, che è la stessa cosa. Tira fuori un oggetto. Da quell'oggetto estrai la proprietà examid. Ok? Ce la metti nella variabile che si chiama examid e il suo valore. Ok? Quindi funziona uguale a prima. Adesso, però, avendo l'examid, che sarebbe poi il codice, devo andarlo a cercare nella lista degli esami. Perché? Perché poi mi serve il codice, nome, score, date. Ok? Per inizializzare i campi del form. Ok? Quindi tutta questa roba qui andrà buttata via. Devo, devo andare a, diciamo, anzi, la ricicliamo in qualche maniera. Devo andare però a tirarmi fuori l'esame. Piccolo problema. Non ho gli esami. Me li passo. Ok? Questo è un po' il brutto di questa soluzione. No? È bella perché vi ho fatto vedere l'URL parametrico. È bella perché, appunto, ci passiamo solo un'informazione. Il codice rimane esplicito. È chiaro che cosa si fa dall'URL. Il brutto è che il form mi diventa un componente che deve capire che esiste un array di esame. Se invece io avessi passato lo stato che conteneva già tutte le informazioni di initializzazione, il componente del form mi restava come prima. Ok? Non aveva bisogno dell'URL parametrico. Sono i vantaggi e gli svantaggi di una soluzione rispetto all'altra. Dovete un po' capire voi cosa ritenete sia opportuno. Io posso dirvi, nel caso di un edit, diciamo, mi vorrebbe da dire l'una vale l'altra, dipende un po' da come riciclate il componente. Nel caso di una visualizzazione, solo visualizzazione, come vi dicevo, prodotto con id prodotto, Beh, io preferirei questa, no? Con use parametrico che va a prendere l'id prodotto e mi tira fuori le informazioni. Perché? Perché quell'URL prodotto barra id prodotto mi può venire comodo. Cioè io carico direttamente quell'URL e mi viene fuori l'informazione nella mia applicazione. È un po' come tutti i siti che avete in giro. Facebook, no? Ho fatto come single page application, ma mettete post barra id del post e vi viene fuori il post. Senza partire da slash e fare chissà quelli click, no? Cioè un URL linkabile, ok? Quindi questi sono gli elementi da considerare quando abbiamo a che fare con questi URL. Quindi proviamo a fare l'implementazione in questa maniera e consci del fatto che abbiamo introdotto questa piccola dipendenza, cioè il form adesso si deve ricevere tutti gli esami, ok? Quindi glieli passiamo, come sopra, exams uguale, exams, ok? Io glieli passo e adesso mi spuntano come props, perché cos'è che ha questo che non gli va? No, niente. Visual Studio Code sta anche lui ragionando come vuoi. Allora, exam form. A questo punto props, exam qui, perché exams? Che gliel'ho passato adesso, ok? Un array, andiamo alla ricerca del nostro codice, no? Come facciamo? Non vi ricordate come funzionano gli array? Google, array, javascript, find, qualcosa di simile. C'è proprio il find, ok? Passo una callback che mi dice true quando l'ho trovato, ok? Quindi, ex freccia, ex code uguale uguale exam id, ok? Sì. Fine, ok? Mi ritorna, devo saperlo, devo andare a cercare il manuale del find, se non me lo ricordo più, anche io onestamente non me lo ricordo mai, però il find mi ritorna l'elemento dell'array, quindi mi va proprio bene, const, e io lo metto dentro, exam to edit, eh? Quindi faccio sparire props da tutti questi posti, perché non è più una props, me la calcolo qui. Ok? E di fatto il codice è già pronto. Perché? Perché così ho anche fatto il test, se per caso non lo trovo, inizializzo col valore di default, quindi non è che mi va in crash il programma perché c'è un define, eccetera. Ok? Ok. Quindi adesso ho messo a posto che dal exam id tiro fuori le informazioni e popolo, quindi inizializzo i campi del form. Salvato, sì, vado a provare. Quindi edit, devo usare un codice che esiste, per fortuna ce l'ho già lì, mi è venuta fuori l'inizializzazione corretta, ok? Se io sparo un codice qualsiasi, pippo, eh? Vabbè, qui l'avevo scritto per comodità, ma vedete che il form prende gli altri valori, i valori default che sono anche i valori che avevamo messo per l'add, eh? Perché alla fine, quando non sappiamo cosa fare, mettiamo una cosa che abbia senso. Campi vuoti, vabbè, il vuoto minimo 18, la data di oggi e così via. Ok? Abbiamo il form che funziona. Andiamo ad aggiustare i link per l'edit. Allora, dove sono? In exam scores? No? In exam scores avevamo le azioni, c'è l'azione profs, edit, exam. Ecco, questa non va più bene. Profs, edit, exam non esiste più. Perché l'edit exam era un set dello stato, di quello stato temporaneo che mi serviva a ricordarmi che cosa dovevo modificare, eccetera. Questo, via. Quindi, freccia. A questo punto facciamo, siamo in un event end, quindi dobbiamo fare navigate. Ok? Una stringa. Cos'è? Il nuovo URL. L'URL. Lo faccio con il template lettera, se trovi i bottoni, sì. Ok. Perché così ci metto dentro il dollaro o qualcosa. Slash edit, slash dollaro. Ce l'ho il codice del corso. Eh, ce l'ho sotto, te. Meno male. Props. Code. Ok? Come ce l'ho sotto per il delete? Oh, ce l'ho lì. Ok? Perché mi segna niente. Salvo. Ok? Navigate is not defined. Va bene. Allora la tiriamo fuori. Quindi, la navigate, andiamo a definirla qui. Ogni componente ha bisogno dei suoi hooks, quindi bisogna rifarla. Anche se c'è sopra. Navigate. Use navigate. Ok? Va bene. Dove sta sta update? No, update exam. Vabbè, poi adesso la sistemiamo. Tiriamo via link exam. Tanto queste icone non servono più. Use state via. E link pure. Così un po' di roba ci sparisce. Proviamo. Quindi, riparto da zero. Quindi, carico la pagina principale. Bottone di edit. Schiaccio. Non vedo il link, perché un navigate non è un link. E quindi... È nel codice. Clicco. Ok, ho fatto due click. A posto. Cancel. Torno alla lista. Clicco sotto. A posto. Cancel. Clicco sotto. A posto. Ok? Quindi, ho di fatto messo a posto... Diciamo, la navigazione, il passaggio dell'informazione per fare l'edit. L'inizializzazione del form. Mi manca un ultimo pezzettino. Che è fare effettivamente l'update dell'esame. Perché se io ho database technology, faccio aaa, save... E non è successo niente. Quindi, devo ancora mettere a posto questa cosa qua. Allora, come faccio? Allora, prima di tutto devo capire come funziona il mio stato. Io ho un ad exam e un update exam. Ce l'avevo già prima. Di fatto l'edit, alla fine, faceva sì che il form chiamasse l'update exam. Devo fare in modo che l'update exam venga passata all'exam form al posto dell'ad exam quando faccio edit. Ok. Beh, in realtà il meccanismo è bello semplice. Nel senso che... Ah, prima non andava perché mi ero dimenticato di passarla. Qui ho un exam form chiamato quando faccio edit. Ho un exam form chiamato quando faccio edit. La cosa semplice è update exam. Cioè, io passo una props diversa a seconda della root in cui mi trovo pur essendo lo stesso componente. Ma questo va benissimo perché tanto viene visualizzata il componente o della prima riga o della seconda o della terza. Le root sono mutuamente esclusive. Ce n'è solo una attiva. Quella che fa il miglior match. Ok? Come dicevamo prima. Quindi salvo. Quindi adesso io ho questa props che si chiama add exam il cui significato in realtà sarebbe add or update exam. Quindi o l'uno o l'altro. Sarebbe appunto aggiungi o modifica. Quindi se volete cambiamo nome ma stiamo lì a cambiare dei nomi per niente. Andiamo a provarlo. Finalmente sono spariti tutti i warning. Tra l'altro. Va bene. Dai. Ok. Database. Technology. E altro. Save. E mi ha fatto l'edit. Ok. Software Engineering. E chissà cosa altro. Cosa altro. Eh. Va bene. La data non può essere futura. Ahia. Qui. Ah. Perché. Vabbè. Ha una data futura. Che devo riportare indietro perché il form viene inizializzato con la data futura. E questo. Non ho fatto un controllo e me lo tengo. Però. Quando voglio salvarlo va bene. Tirarò indietro la data. Ok. Però funziona tutto. No. Siamo a posto. Abbiamo l'edit. Abbiamo l'edit sul. Come si dice. Sul. Sull'applicazione con una ruta apposta. Ok. Io. Ecco. Vi faccio vedere. Solo ricarico. Il motivo è perché questa è una data futura. Io l'ho messa fissa nei miei fake exam. Non dovrebbe starci. No. E se qualcuno vi ha scritto qualcosa nel DB e in qualche maniera è sbagliato non l'ha fatto totalmente l'applicazione è chiaro che poi a un certo punto si crea un problema. Va bene. Quindi facciamo il commit di questo che dovrebbe essere tutto a posto. Quindi. Edit. Edit. Fatto. Ok. E poi facciamo solo più qualche considerazione anche perché abbiamo quasi esaurito il tempo. Va. Push. Si sta pushando. Va. Vai. Boh. Vabbè. Ci avrà la rete fatta a modo suo. Non gli va. Eh. Con calma andrà. Ok. Quindi ci potrebbero essere ancora un paio di cose su cui ragionare. La prima semplice e ma ma ha senso fare una root che so path edit e basta element dobbiamo dobbiamo decidere cosa scriverci. Oh. Cosa dite? Sta a voi. Nel senso se fai un edit di una cosa che che non esiste ma ehm non so non so se è il caso di farla cosa ci mettereste in una diventa una ad no? ok? Però se se questa riga non esiste no? Quindi io adesso la cancello faccio salva se questa riga non esiste mi raccomando la root edit non esiste eh ok? Se invece esistesse gli avessi messo dentro qualcosa quindi faccio così che so gli metto dentro la stessa roba di di ad semplicemente faccio edit eh mi si è incriccato qualcosa cosa mi si è perso elementare form ad exam ah devo passaggi di exams se no mi si inchioda il componente quindi il commit che vi ho fatto prima mancava di un pezzettino poi lo sistemo ok adesso c'è perché perché poi faccio props exam find mi fa and find e arrivederci al componente ok l'avrei potuto vedere aprendo la console ok quindi questo è l'edit ma che cos'è è un edit vuoto no? quindi alla fine è un hat no? quindi non credo che abbia tanto senso mettere una root così io non la metterei invece vi farei mettere una root path così facciamo pratica di tutto quello che abbiamo detto stamattina dove è andato? asterisco che è la root che aggancia tutto eh element visto che siamo di fretta non crea un componente ma scrivo un po' di jsx page not found ok quindi page not found ok ovviamente aggiustate un po' lo stile tutte queste cose qua non però questa è la root che aggancia qualsiasi come dire idiozia vado a scrivere nell'url ok poi cortesia magari mettere un link elemento link torna la home slash e cose di questo tipo purtroppo mi manca il tempo ma potreste ancora ristrutturare l'applicazione in questa maniera quindi ve lo dico solo dividere lo schermo in due parti mettere a sinistra un una colonna in cui mettete due link add e edit o due bottoni se vi piacciono di più anzi scusate non add list e add l'edit no perché l'edit non sappiamo cosa editare quindi list add e in mezzo il componente che è o la lista o il form no form vuoto o form da editare ok così fate pratica con il layout eh quindi fate una ruta esterna con un componente layout che prende magari un container bootstrap e gli fa row col 3 col 9 per dire e nel col 3 mettete il menu e nel col 9 mettete outlet e qui sotto c'è tutto il resto ok quindi le route annidate che saranno poi le route di add e di edit eh e e slash ok ve le mettete qui come annidate che compariranno lì all'interno del layout nella parte principale ok però non ci stiamo dentro ma insomma è una cosa veramente facile da fare è meccanica bisogna solo provarla ok direi che per oggi abbiamo finito qui mi raccomando il laboratorio perché poi c'è la submission eh e non io tra l'altro domenica vado via quindi domenica non ci non riesco a rispondervi eh sabato farò la valigia magari un po' di tempo lo trovo per rispondere però se siete tutti lì a chiedere su slack sabato fatichiamo eh quindi fate che funzioni la submission provate il il classroom eh provate ad avere un primo commit un push eccetera noi non li guardiamo guardiamo solo l'ultimo fate tutte le prove in maniera che siete pronti a fare eh la submission del big lab ok ci vediamo giovedì grazie a tutti e eh a giovedì grazie a tutti grazie a tutti